Nel periodo dei morti sono tanti canicattinesi che si recano al cimitero per far visita ai propri cari defunti. Capita che qualcuno passando per le tombe degli illustri canicattinesi non più in vita si fermi e depositi un fiore sulla tomba di chi non c'è più. Tra questi i giudici uccisi dalla mafia, Rosario Livatino ed Antonino Saetta. Questo giovane canicattinese ci racconta cosa ha visto. Ero qui che passeggiavo per il cimitero e mi sono accorto che non solo la tomba di Saetta è nel degrado più totale, ma anche la tomba di Rosario Livatino. Cioè sì, magari anzi qualche fiore c'è. Perché qualcuno passa, abbiamo visto, si ferma. Sì, qualcuno passa e si ferma e c'è qualche piccolo fiorellino, ma là è nel degrado più totale. E sinceramente da cittadino canicattinese che per me questi due personaggi, questi due signori che hanno dato la vita per la lotta contro la mafia, mi dispiace tanto che il comune non si ricordi di questi due signori, di questi due magistrati. Adesso siamo nella tomba di Saetta e del figlio Stefano. Abbiamo visto che ci sono anche qui le cose che non vanno. È una vera vergogna che qui non ci sia nemmeno un fiore, anche perché non si legge nemmeno il nome sulla tomba. Peccato che il comune non se ne ricordi.